Seconda spaccata in tre mesi per il negozio Vodafone di via Mascagna a San Paolo. Stavolta i malviventi hanno usato un'auto come Ariete per abbattere la vetrina. Poi hanno preso tablet e smartphone per un valore commerciale di circa 10.000 euro. A questo si aggiunge il costo di oltre 4.000 euro per rifare l'intera vetrina e la porta d'ingresso andate distrutte. Un danno che si somma a quello sostenuto solo tre mesi fa. Troppo per aver la voglia di andare avanti. Sì, purtroppo è brutto dirlo ma oggi è dura, sempre più dura. Io e i miei soci stiamo pensando seriamente di chiudere l'attività perché così non si va avanti. I ladri hanno agito intorno alle 4.30 di questa notte. Prima hanno girato la telecamera di sicurezza del negozio vicino, poi hanno danneggiato l'impianto d'allarme e sono entrati in azione con l'auto. Una testimonia avrebbe descritto un veicolo bianco, forse una Fiat Punto. Con che animo riaprite domani? Domani cerchiamo di tirare avanti, di andare avanti con entusiasmo come abbiamo sempre fatto in questi 19 anni perché è 19 anni e questa attività è aperta, però l'idea seria di fare un cambiamento c'è perché così non si può andare avanti. O le istituzioni fanno qualcosa per tutelare i commercianti o non lo so, non sta a me dirlo, però così non si può andare avanti.